Moxedano sul secondo palo, attenzione ancora la Neapoles in attacco fallo laterale Moxedano libero in aria, la palla finisce a Bonanno il traversone, attenzione, c'è Foggia che cerca di deviare la palla in porta e c'è Gattari, abbiamo rischiato ancora proviamo a distenderci attenzione, fermato da Luca mentre triplava un avversario, forse c'è il rosso no, c'è il giallo è espulso, tocca munizione doppia munizione, sì allora era il numero 5 esposito a essere stato munito nelle proteste, in ere di rigore attenzione che c'è qualche parapiglia tra giocatori non allunghiamo le mani ragazzi stiamo calmi, stiamo calmi momento cruciale della partita è stato espulso dopo uno scatto di De Luca a saltare l'avversario al sedicesimo al sedicesimo è stato espulso un centrale difensivo capitano in campo è ancora più grave la spulzone butta a terra la fascia di capitano il numero 5 esposito e lascia il terreno di gioco Neapolis che si è fatta minacciosa nei primi dieci minuti esce dal terreno di gioco il numero 5 è